Ciao a tutti, chi mi conosce sa che io quando faccio una conferenza non cerco di vendere qualche cosa, ma cerco di portare la mia esperienza a frutto di tutti quelli che sono prestigiatori illusionisti. Ho anch'io da dire la mia e la dirò dove? Al congresso di San Marino. Venite tutti, vi aspetto per un qualche cosa di veramente interessante. Ciao.